Quando si accorgono che la loro parola conta, che loro hanno la possibilità di approfondire, di studiare e di capire soprattutto le questioni sulle quali sono chiamati ad esprimere un parere, quando vedono questo i cittadini vengono. Riavvicinare le persone alla cosa pubblica. Questo è uno degli obiettivi della democrazia partecipativa, un processo che prevede il coinvolgimento diretto delle persone nelle decisioni che le riguardano. La democrazia partecipativa cerca di riunire decisori, organizzazioni della società civile e cittadini per discutere su temi di forte rilevanza pubblica e costruire decisioni maggiormente condivise. I partiti si sentono proprietari privati della politica, per cui i cittadini una volta che hanno votato non devono fare più niente, devono solamente aspettare la prossima elezione per ribotare di nuovo. Questo è il motivo per cui oggi probabilmente i cittadini si sentono sempre più lontani dalla politica appropriata dai partiti. E' il motivo fondamentale per cui a votare oramai ci va il 50% degli eventi diritto. Attiva dal 2017, l'Associazione Culturale Demos promuove, progetta a fianco e realizza percorsi e strumenti di democrazia partecipativa, inclusiva e dialogica su tutte le tematiche sociali nei territori locali, come avvenuto di recente per la riqualificazione della piazza dalla chiesa a Giulianova, o come avverrà ai primi di dicembre per la riqualificazione per l'area archeologica del Teatro Romano di Teramo. Ha lavorato un tavolo tecnico molto qualificato, ha lavorato per mesi con incontri e riunioni trasmesse per diretta Facebook, che i cittadini di Teramani hanno seguito, perché poi noi ci accorgiamo quante persone vedono le dirette Facebook, hanno seguito e quindi sono abbastanza informati. Ora faremo questa conferenza cittadina per esporre le idee progettuali di riqualificazione di tutta l'area che sono emerse da quasi un anno di attività del tavolo tecnico.